Ed eccoci al volante della nostra e-tron GT, mamma mia che spettacolo, come spinge quanta coppia 830 newton metro che arrivano arrivano puntuali sotto la spinta delle quattro ruote, sembra di guidare una macchina da rally certamente un po' più pesante rispetto ad una vera auto da corsa pesa 2150 kg, ma guardate come danza tra le curve di questo piccolo Nürburgring che è stato allestito qui a Cortina, giù 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 è meravigliosa, ripartizione 50-50 che consente a questa vettura, come vedete, appunto di danzare ma soprattutto di far sentire al pilota quello che passa sotto le ruote, cattiveria vera Ed eccola qui, la nuova Audi e-tron GT, primissima presa di contatto per l'Italia una vettura che si evolve rispetto alle vetture elettriche che abbiamo conosciuto sino ad oggi del brand Audi perché arriva finalmente la piattaforma J1, ovvero quella che ha debutato prima di tutti sulla Porsche Taycan ed oggi arriva anche ad Ingolstadt con questa nuova e-tron GT che rappresenta una forte alternativa nel mondo dell'elettrico in casa Audi ma non solo questo perché il brand dei quattro anelli ha voluto puntare su questa nuova piattaforma ha voluto puntare su un'estetica che porta in concessionaria una coupé a quattro porte con delle forme estremamente muscolari e con dei valori di autonomia e di prestazione direi di altissimo livello macchina che è disponibile in due varianti, l'E-tron GT standard e la RS che vedete qui di fianco sono completamente diversi i valori di potenza, esattamente come fa Tesla per le proprie vetture a fronte di un pacco batteria da 93 kWh questa GT è in grado di percorrere 488 km mentre la RS che vedete lì percorre 472 km da 0 a 100 in 4 secondi e 1, 245 all'ora di velocità massima ma la RS e questo è anche giusto perché è sviluppata da Audi Sport proprio per avere maggiori prestazioni tocca 250 all'ora ma soprattutto accelera da 0 a 100 in 3 secondi e 3 è una coupé a quattro porte direi più grande rispetto ad una 5 Sportback per intenderci siamo più nel campo della A7 ma le forme sono diverse questo è consentito dalla tecnica chiaramente che prevede due motori sincroni uno davanti e uno dietro, quello posteriore ha anche il cambio ZF a due rapporti esattamente come la Porsche Taycan ma appunto l'assenza del motore nella zona frontale ha permesso a questa macchina di essere più bassa, più schiacciata, dà un'idea di essere molto larga rispetto anche a quanto è lunga dà un'idea anche di essere molto muscolare e questo design è certamente un elemento che si ricorda tantissimo guardate anche i fianchi anche da questa visione come passaruota emergono dal corpo vettura e come questo muso chiaramente impostato sulla classica calandra single frame di Audi come questo muso comunque abbia molto da dire in termini di stile e si ricorda immediatamente come elemento distintivo di questo prodotto che comunque di design ne ha davvero tantissimo in ogni punto della sua carrozzeria chiaramente fari matrix led con funzionalità laser, aerodinamica molto curata qui nella zona frontale splitter nella parte bassa ma soprattutto anche telecamere e radar che attivano funzioni di aiuto alla guida molto sofisticata come del resto Audi propone ormai da molto tempo nei suoi prodotti e direi comunque anche tanti elementi che parlano appunto di aerodinamica come questa calandra chiusa ma la vedete che ha questi elementi esagonali che lavorano per dare comunque una tridimensionalità a questo elemento che apparentemente è piatto proprio per dire sì io sono molto aerodinamica ma sono anche molto raffinata tanto è vero che il CX arriva a 0,24 che è un valore da record per un prodotto come questa ETRON GT che chiaramente punta non solo sulla prestazione non punta solamente sull'estetica ma punta anche sulla efficienza questa piattaforma J1 nasce per essere una grande concorrente di Tesla ha la capacità di ricaricare le batterie fino a 270 kilowatt se avete chiaramente un sistema di ricarica che ve lo permette Ionity o le colonnine che stanno arrivando all'interno delle concessionarie Audi e ci sono anche ovviamente tanti altri elementi che parlano di questa vettura come di un elemento in grado di andare a sostituire in parte chiaramente quelle che sono le caratteristiche di un'automobile tradizionale con il motore termico, benzina o diesel facendo fronte alle mancanze con delle prestazioni fotoniche ma chiaramente andando a limitare i danni in termini di utilizzo quotidiano con dei tempi di ricarica assolutamente fotonici perché ricarichiamo 100 chilometri in soli 5 minuti 80% dell'autonomia in 23 minuti per un massimo di 488 chilometri come avevamo detto batteria che è tutta sotto al pavimento e questo consente innanzitutto di abbassare il baricentro di un oggetto che chiaramente è molto pesante, tutta sotto al pavimento significa avere un bilanciamento innanzitutto un baricentro molto basso ma quello a cui sono stati molto attenti in Audi è anche il bilanciamento della vettura che è 50 50, come vi dicevo questa GT dice io sono sportiva tra virgolette sono raffinata ma sono anche molto aerodinamica anche qui la zona di coda è veramente molto ben disegnata con questa ala vedete che sale e scende in relazione chiaramente alla velocità di utilizzo della vettura e questa zona posteriore che porta con sé un nuovo stile di Audi che collega sempre il faro destro a quello sinistro attraverso la sottile linea rossa ma introduce questo gruppo ottico che è molto generoso lo vedete nella dimensione è sempre questo design a freccia nella zona laterale ma appunto è molto evidente molto corposo nella sezione di coda che anche qui lo vedete guardate un po' questa visione con questa linea che tende molto ad emergere tende molto a segnare il fianco poi tende a scendere poi tende di nuovo ad allargarsi con questo mega passaruota che va ad integrare le ruote che poi vedremo però come vedete qui dietro esattamente come davanti la linea di coda è molto filante questo chiaramente gioca a favore dell'aerodinamica ed è frutto ovviamente di una serie di elementi tecnici che chiaramente non ci sono o che comunque giocano nella parte sottostante in modo diverso rispetto ad un'automobile tradizionale ovviamente qui sotto c'è un estrattore dell'aria la vettura la faccio vedere nella parte sottostante è completamente carenata penso che si veda si vede è tutto 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 carenato e questo dà l'idea appunto di come in Audi abbiano lavorato sodo per garantire a questa macchina di essere più efficiente rispetto ovviamente a quello che potrebbe con delle soluzioni tradizionali portellone manco a dirlo ad apertura elettroattuata 330 litri di vano non è un vano ampissimo qui all'interno ci sono i sistemi di ricarica domestica e ovviamente il cavo per la ricarica in AC fino a 22 kilowatt e poi come vedete il frazionamento è 60 anzi 40 20 40 con la possibilità di andare ad invadere l'abitacolo ad esempio con degli sci preso 12 volt e anche un po' di spazio qui nella zona laterale con degli elementi che possono andare a tenere magari il libretto insomma o altri elementi che potete mettere qui dietro richiudiamo ve la mostro anche dentro chiaramente come vedete anche qui elementi aerodinamici in questo caso pieni di neve perché stiamo girando in un piccolo white hell che poi vedremo elementi appunto aerodinamici che giocano la partita assieme anche a questi cerchi gommati 245 45 20 davanti pinza a 10 pistoncini in questo caso abbiamo il disco al carburo di tungsteno che avevamo visto sulle porsche ma arriva anche adesso sulle audi ha un'efficienza pazzesca perché assicura grande ripetibilità delle frenate assicura un grande potenziale potenziale che è molto vicino quello dei carboceramici che invece sono proposti sulla rs dietro si viaggia con il 285 40 eccolo qui sempre con una pinza la vedete generosa nella dimensione rossa 4 pistoncini con un disco sempre a creburo di tungsteno chiaramente la gommatura in questo caso è una pirelli p0 winter con declinazione pensata per questo prodotto infatti la spalla è leggermente più alta rispetto a quello che si vede solitamente questo genere di vetture proprio anche per andare a lavorare assieme alle sospensioni controllo elettronico ea tanti altri elementi per assicurare si prestazione ma anche comfort ma prima di salire all'interno ve la faccio vedere anche come è fatta davanti a livello di bagagliaio allora questo è il tasto per aprire il portellone posteriore eccolo qui il tastino per aprire davanti volume anteriore che è molto contenuto perché parliamo di 85 litri che chiaramente vanno a sommarsi ai 330 posteriore eccolo qui ci sta un trolley la cabina piccolino un paio di borse morbide non è un vano molto molto generoso però comunque di fatto qui davanti ci sta qualcosa magari quella borsa con il sistema di ricarica domestica che avete visto lì dietro ve la faccio vedere anche dentro come è fatta perché ci sono degli elementi che sono molto interessanti i materiali sono come al solito eccezionali molto bella la pelle cucita tono su tono molto bello il legno vero esattamente come quello che troviamo sulla plancia molto bello e questo è un concetto molto interessante l'utilizzo della pelle dinamica che è una specie tra virgolette di alcantara ma viene sviluppata partendo dal riciclo della plastica come al solito impianto bengenolufsen e anche la parte qua sotto non è per nulla croccantina anzi molto piacevole al tatto anche in questo caso è materiale riciclato la stoffa che troviamo sul rivestimento dei sedili approfitto per farvi vedere la rs che parte con questo sound questo audi sound è stato sviluppato per questo modello entro a bordo la seduta è piuttosto bassa strano per una macchina con le batterie sotto questo secondo me è un elemento che ritroveremo anche dietro e vi faccio vedere gli interni primo start si abbassa chiaramente il volante si riconfigura la posizione di guida continua come ospite qui abbiamo una declinazione del sistema mmi audi che conosciamo già molto bene però una declinazione pensata anche per l'elettrico interagisce chiaramente con i sistemi di ricarica tra l'altro audi in accordo con gli oniti ma anche con altri fornitori di energia ha una monotessera fondamentalmente attraverso la quale potete andare a ricaricare la vettura presso le colonnine di ricarica rapida ma chiaramente chi compra un genere di auto del genere ha bisogno anche di una colonnina a casa è proprio play android auto ovviamente il sistema audi è in grado di lavorare anche in assenza dell'integrazione con il vostro smartphone proprio perché connesso in rete soprattutto tantissime app fanno parte appunto di questo sistema multimediale che certamente tra i più avanzati al mondo per quanto riguarda l'interno come vedete riprende la forma del frontale anche qui di nuovo abbiamo lo stesso legno sempre ecologico stesso discorso anche per quanto riguarda la parte superiore e gli altri dettagli degli interni mi piace questa palpebra con lo schermo qui davanti che a differenza della tycan è più stretto lo vedete e soprattutto non va a nascondere all'interno della razza all'interno della della coro dello spazio tra la corona e le razze non va a nascondere parte del display e questo rende ovviamente più leggibile la strumentazione di questa vettura che in questo momento conserva 261 chilometri di autonomia e ci propone innanzitutto un utilizzo non c'è il contagiri ma ci propone un utilizzo della batteria una selezione di driving mode che possono essere appunto efficiency comfort dynamic individual diciamo che la macchina è molto simile a quanto abbiamo visto anche con le altre audi c'è la possibilità di andare a regolare le sospensioni ma soprattutto c'è la possibilità di andare a selezionare il profilo sound che è una cosa a cui tengono moltissimo i ragazzi di audi perché questa vettura voleva anche dare una sensazione sensoriale non solo elettrica chiaramente è una vettura più gelida rispetto a quello che può essere una v8 o un v6 o sei linea quello che volete ma ovviamente in questo caso visto che ho considerato che per legge la macchina quando si muove deve emettere un suono fino a 20 km orari hanno pensato di integrare un rumore che è tipico sarà tipico delle vetture e tron sportive e che chiaramente dà una sensazione prestazionale alla vettura per quanto riguarda gli interni come vedete anche qui molto ben disegnati siccome lo stile audi è azzeccato da questo punto di vista non hanno voluto mettere il secondo display qui sotto ma c'è il sistema di climatizzazione che conserva i tasti con il click sentite scomera fatto un passo indietro e sono stati intelligenti da questo punto di vista e come vedete anche qui abbiamo un piccolo cassettino all'interno e poi il doppio porta latina con il rotore che mi permette di selezionare il volume della radio questo l'abbiamo visto anche sulla 3 poi selezionare anche chiaramente il driving mode lo sentite che si è acceso il motore anche se lo metto in neutral se accelera non fa nulla però se lo metto in drive come sentite si sente si sente sì il rumore del motore spero che filtri all'interno del microfono perché comunque a livello di timbrica direi che ci hanno fatto sicuramente un un ottimo studio vi faccio vedere anche come si sta dietro 2 metri 90 di passo vettura che ovviamente dovrebbe spero per loro essere comoda anche dietro e come vedete con i sedili regolato sulla mia posizione si sta direi piuttosto comodi ma c'è una differenza anche rispetto alle tesla per intenderci ovvero che la seduta è naturale il pacco batteria non va ad influenzare l'altezza della del poggiapiedi e questo l'avevo già notato anche sull'altezza del sedile e qui che fanno la differenza i grandi costruttori di automobili su queste cose perché sono attenti a questi dettagli che magari in america sono un po più snobbati in favore di altri come ad esempio l'efficienza l'autonomia eccetera eccetera che comunque fanno parlare ancora a vantaggio di tesla chiaramente però come vedete qui abbiamo una bellissima posizione anche qui dietro si sta comodi e questo mega tetto panoramico in vetro va ad assicurarmi anche un po più di spazio per la testa e devo dirvi che anche qui dietro si sta davvero molto molto comodi macchina fotonica che non vedo l'ora di guidare prima in questa variante tra virgolette standard e poi nella più prestazionale rs andiamo ed eccoci al volante della nostra e tron si guida e si guida direi alla grande giù altro che giù altro che giù qua ragazzi qua si va alla grandissima la facciamo spendolare meraviglia veramente meraviglia come è tarata questa piattaforma j1 anche nelle creazioni audi che un filino più morbida rispetto alla porsche è una pensata chiaramente per assicurare una sportività diversa una questione più legata ad un utilizzo quotidiano che qua tanto 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 ghiaccio come vedete si muove sulla forza di un sistema di trazione integrale che lavora prima di tutto dietro e poi sposta la coppia davanti lo fa in modo molto naturale lo fa esattamente come lavora una trazione integrale audi classica e lo fa in un modo direi anche molto efficace in modo assoluto perché non sembra nemmeno di guidare un'automobile elettrica sembra di guidare una vettura con il motore tradizionale spinge spinge direi fortissimo e tra l'altro ti permette anche una volta capito come che meraviglia ti permette di divertirti ti permette di sentire quello che passa sotto le ruote chiaramente con un mood che nel vostro cervello deve essere declinato nel contesto di una vettura elettrica perché il baricentro sotto l'asse delle ruote c'è molto peso lì sotto e chiaramente i trasferimenti di carico che ci possono essere tra l'asse anteriore quello posteriore sono più limitati rispetto a quelle di un'automobile tradizionale per cui ci sono alcuni barbatrucchi chiamiamoli così da parte degli ingegneri audi per andare a compensare questo difetto tra virgolette che hanno tutte le automobili elettriche e hanno inserito il sistema di quattro ruote sterzanti hanno inserito degli ammortizzatori a controllo elettronico chiaramente che chiaramente hanno una trattura specifica ci sono dei sistemi di torque vectoring che vanno a lavorare sulle singole ruote per aiutarvi a girare chiaramente anche a ripartire la coppia con quasi come ci fossero degli autobloccanti e ovviamente c'è anche una ripartizione del peso che è 50 50 che consente a questa macchina di essere molto bilanciata e pulita e poi c'è la classica solita esperienza audi che riguarda questa me la rifaccio è che meraviglia c'è la classica esperienza audi che riguarda la pulizia dello sterzo il lavoro delle sospensioni il lavoro della cinematismo delle sospensioni che chiaramente sono state sviluppate in collaborazione con porsche perché la piattaforma è stata sviluppata da porsche in collaborazione chiaramente anche con audi e il lavoro che si ha nel contesto di una vettura del genere guidando e apprezzando una vettura del genere è direi quello di una macchina che è neutra e appunto come vi dicevo riesce a compensare bene quello che è uno dei difetti tipici di questo tipo di auto ovvero il fatto di avere il baricentro molto basso e la scarsa capacità di trasferire carico tra l'asse anteriore e quello posteriore qui in realtà il carico lo trasferisce lo trasferisce molto bene e soprattutto anche quando si sbaglia si ha la capacità di andare a recuperare e andare a riprendere una situazione magari anche di emergenza cosa non tipica con una vettura così pesante e soprattutto anche così potente perché abbiamo 530 cavalli che muovono la vettura quasi fosse una piuma c'è tanta coppia quasi fosse una piuma e permettono appunto di guidare molto bene anche in situazioni così estreme purtroppo è solamente una primissima presa di contatto non possiamo guidarle su strada perché sono una vera prova di contatto volevano farci apprezzare questo piccolo nurburgring che è stato disegnato qui a cortina e secondo me hanno fatto molto bene perché da qui si capisce come questo progetto sia molto avanti e vi assicuro questo non me l'hanno detto solamente ragazzi di Audi ma me l'hanno detto tantissimi costruttori vi assicuro che far andare bene una macchina elettrica sulla neve è tutt'altro che semplice e devo dire che questa macchina una volta fatta la mano è tutt'altro che difficile da guidare ed è un oggetto che porta con sé tutti quelli che sono i vantaggi tipici di un'auto elettrica ovvero l'assenza di rumore l'assenza di vibrazioni la qualità della vita a bordo perfetta potete fare delle telefonate eccezionali potete avere una bellissima chiacchierata con chi avete di fianco chiaramente non avete il brum brum del motore vuoto o dei sei cilindri e questa ovviamente è la contropartita tecnologica che si ha da prodotti di questo genere nei confronti di quelli di vecchia tra virgolette generazione prodotti di vecchia generazione che continuano chiaramente a farci battere il cuore ma nel contesto di un oggetto del genere comunque si apprezza come la tecnologia anche in questo mondo stia portando avanti questi prodotti e li stia portando molto avanti anche nelle qualità di guida e li stia portando avanti ma questo c'erano già arrivati anche in termini di qualità di comfort l'autonomia non è ancora diciamo ai livelli stellari che si immaginavano per questi anni ma comunque si inizia già avere ben oltre i 400 chilometri si inizia ad avere delle autonomie soprattutto delle velocità di ricarica che consentono di vivere queste auto direi molto molto bene e chiaramente si riesce ad iniziare a pensare ad una vettura come questa come una alternativa ad un'automobile di tipo tradizionale soprattutto se non siete degli abitui dei lunghi viaggi se avete il sistema di ricarica a casa se avete la possibilità di andare a recuperare dell'energia durante la notte o ovviamente anche magari presso il vostro posto di lavoro sicuramente un oggetto del genere può essere molto interessante per tutti gli altri rimangono ancora dei grandi motori V8 dei grandi motori V6 e per queste potenze ci sono comunque dei prodotti anche in casa Audi che rimangono eccezionali ed eccoci qui prova terminata come al solito quando provo un Audi sono al telefono col mitico magico e unico Dindo Capello ciao Dindo buongiorno sì grazie troppo buono senti allora io non sai dove sono realmente però vorrei farti sentire il suono di questa vettura vediamo se se lo indovini prova a dirmi che macchina che macchina è tu pensi che io non so che dove sei ma io lo so dove sei è una info che secondo me è anche RS magari no questa era la normale non era l'RS qua ecco vedi qua ogni tanto non azzecchi comunque devo dire Dindo mi sono divertito un sacco macchina molto bella chiaramente ha il difetto di avere la batteria sotto l'asse delle ruote per cui fatica a trasferire i carichi ma è molto ben compensata dall'elettronica dalle quattro rotte serzanti dal torque vectoring e tutti gli altri elementi che i ragazzi in Audi hanno sviluppato per consentirti una guida devo dire molto naturale sembra di guidare un attrazione integrale normale però con tanta coppia e tanto sostegno sono d'accordo con te ho avuto la fortuna di guidarla in anteprima lunedì quindi tre giorni fa e mi sono veramente divertito divertito tanto perché come dici te la coppia ti permette veramente di innescare la derapata immediata e poi controllarla con l'acceleratore e con lo sterno quindi veramente mi sono divertito sono tornato veramente indietro era tanto tempo che non vi davo spiace ma mi è veramente tornata la voglia e poi devo dire che dal punto di vista estetico è veramente stupenda quella macchina si hanno fatto un bellissimo lavoro si parte da 107.800 euro per la GT invece la RS è un po' più bombardata 149.800 devo dirti che tra le due si percepisce chiaramente la differenza prestazionale ma già con la GT comunque ti porti a casa una bella macchina e devo dire che anche qui a livello freni hanno fatto un bel lavoro perché questi carburo di tungsteno lavorano benissimo e sono molto resistenti alla fatica e sono degli ottimi freni certo se metti i carboceramici è meglio se hai più potenza è meglio ma comunque hai già una vettura che ha anche qualche chilometrino in più di autonomia si e poi devo dire che sono d'accordo con te e ho avuto la fortuna di guidarle tutte e due e devo dire che anche con la versione GT sul ghiaccio mi sono divertito tantissimo anche se è un po' meno prestazionale rispetto all'RS però anche con la GT devo dire che mi sono divertito tantissimo l'ho trovata molto molto naturale nella guida questa è la cosa fondamentale sono d'accordo con te Dindo senti ti lascio il tuo lavoro che ne hai da fare finché vuoi devo vendere delle E-Tron adesso mi è spiaciuto non trovarti mi è spiaciuto non trovarti comunque ho avuto dalla villa come istruttore per consumare tanta roba e niente speriamo di vederci presto e ti ringrazio per come al solito il tuo prezioso contributo anche se stavolta mi hai deluso perché non hai azzeccato esattamente il modello però va bene per questa volta va bene uguale vabbè perdonami dai dai un abbraccio e a presto un abbraccio e buon lavoro ciao e grazie a tutti ciao a presto ciao ciao